una tavolata di quelli che in gergo si chiamano chiodini cioè armillaria mellea fanno a ceppe guardate questa per esempio sono ottimi in tanti modi c'è chi li mette sott'olio c'è chi li scotta c'è chi li come si dice e ad opera nei primi nei contorni sempre scottati ovviamente c'è da stare attenti perché una scarsissima percentuale dei fruitori direi intorno allo per cento nel mangiarli contengono hanno nel sangue un enzima che gli fa male per cui stiamo attenti la gente lo sa ormai quindi basta fare un velocissimo test e non si hanno problemi ecco qua armillaria mellea anche chiodino grazie a tutti grazie a tutti